E' il momento della tombola, tutti seduti, ci siete? Ora estraggo il numero 26. Toxie Day e la Premier League. Il prossimo, il numero 25. NBA Christmas Day. Numero 31, i grandi campioni del tennis. Quest'anno abbiamo tutti i numeri. NBA, Premier League, Serie B e tanto altro ancora. Ogni giorno un evento imperdibile. Un Natale così è solo su Sky Sport.